Era importante comunque essere qui oggi? Beh sì, lo dovevo, quindi è giusto così, papà faceva parte di questo battaglione, va bene, mi ha fatto piacere. Cosa gli dirà tornata a casa di questa giornata? Ti dirò com'è andata, della celebrazione, è stata tranquilla, al posto tuo ci sono stata io, mettiamola così, era giusto così, va bene, di niente.